AGEO, CAPITOLO PRIMO Il secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezza del profeto Ageo a Zorobabele, il figliolo di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figliolo di Jeho Tzadak, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata. Perciò la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. È egli il tempo per voi stessi d'abitare le vostre case e per rivestire di legno mentre questa casa giace e rovina? Or dunque, così parla l'Eterno degli eserciti. Ponete ben in mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non vè chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa forata. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ponete ben mente alle vostre vie. Salite nella contrada montuosa, recate delle gname e costruite la casa. Ed io mi compiacerò d'essa e sarò glorificato, dice l'Eterno. Voi vi aspettate molto ed ecco ve poco. E quando l'avete portato in casa, io ci ho soffiato sopra. Perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della mia casa che giace in rovina, mentre ognun di voi si dà premura per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, sì che non c'è rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Ed io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. E Zorobabele, il figliolo di Sheathiel, e Giosuè, figliolo di Jehoshatak, il sommo sacerdote e tutto il rimanente del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno del loro Dio e alle parole del profeta Geo secondo il messaggio che l'Eterno, il loro Dio, gli aveva affidato. E il popolo temette l'Eterno. E Egeo, messaggero dell'Eterno, disse al popolo, in virtù della missione avuta dall'Eterno, io sono con voi, dice l'Eterno. E l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, figliolo di Sheathiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, e figliolo di Jehozadak, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto dei popoli. Ed essi vennero e misero la mano all'opera nella casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio, e il ventiquattresimo giorno del mese, il sesto mese, il secondo anno, del re Dario. A Geo capitolo secondo Il settimo mese, il ventunesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Geo in questi termini. Parla ora, o Zorobabele, figliolo di Sheathiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figliolo di Jehozadak, sommo sacerdote, e al resto del popolo e di loro. Chi è rimasto fra voi chi abbia veduto questa casa della prima gloria? E come la vedete adesso? Così com'è? Non è essa come nulla agli occhi vostri? E ora fortificatevi, Zorobabele dice l'Eterno. Fortificati, Giosuè, figliolo di Geozadak, sommo sacerdote. Fortificati, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi all'opera, poiché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti, secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto e il mio spirito dimora tra voi. Non temete. Poiché così parla l'Eterno degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, e io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, ed io empirò di gloria questa casa, dice l'Eterno degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. La gloria di quest'ultima casa sarà più grande di quella della prima, dice l'Eterno degli eserciti, e in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Il ventiquattresimo giorno del nono mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Geo in questi termini. Così parla l'Eterno degli eserciti. Interroga i sacerdoti sulla legge intorno a questo punto. Se uno porta nel lembo della sua veste e della carne consacrata, e con quel suo lembo tocca del pane o una vivanda cotta o del vino o dell'olio o qualsivoglia altro cibo, queste cose diventeranno esse consacrate? E i sacerdoti rispossero e dissero, no. E Ageo disse, se uno essendo impuro a motivo di un morto tocca a qualcuna di queste cose diventerà essa impura? E i sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Allora Ageo replicò e disse, così è questo popolo e così è questa nazione nel mio cospetto, dice l'Eterno, e così è tutta l'opera delle loro mani e tutto quello che m'offrono là. è impuro. Ed ora, ponete ben mente a ciò che è avvenuto fino a questo giorno prima che fosse messa la pietra su pietra nel Tempio dell'Eterno. Durante tutto quel tempo, quando uno veniva a un mucchio di vesti e a un mucchio di venti misure, non ve era anche dieci. Quando uno veniva al tino per cavarne cinquanta misure, non ve ne erano anche venti. Io vi colpì col carbonchio, con la ruggine, con la grandine in tutta l'opera delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Ponete ben mente a ciò che è avvenuto fino a questo giorno, fino al ventiquattresimo giorno del nono mese del giorno del Tempio dell'Eterno fu fondato. Ponetevi ben mente. Egli ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melagrano, l'ulivo, nulla producono. Da questo giorno io vi benedirò. E la parola dell'Eterno fu indirizzata per la seconda volta ad Ageo il ventiquattresimo giorno del mese in questi termini. Parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli, Io farò tremare i cieli e la terra e rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano, i cavalli e i loro cavalieri, l'uno cadrà per la spada dell'altro. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabele, figliolo di Sheatier, mio servo, dice l'Eterno, e ti trarrò come un sigillo, poich'io t'ho scelto, dice l'Eterno degli eserciti.